L'ex sindaco di Nagotorbole Giuseppe Parolari e i quattro assessori della legislatura 2000-2005, Flavio Pompermaier, Alberto Martinelli, Luca Civettini e Orlando Mazzoldi, sono stati condannati in secondo grado al pagamento di circa 31 mila euro ciascuno. È arrivata in appello nei giorni scorsi la vicenda dell'appalto della gestione del Forte Alto che l'allora amministrazione Parolari decise di affidare in via diretta ad una società espressione del mondo economico dell'Alto Garda, la Sapori SRL, formata dalle associazioni di categoria, dal mondo del credito, della cooperazione e della cultura. Una decisione che Parolari ha sempre difeso perché volta alla valorizzazione di un bene che oltre al ristorante contemple anche uno spazio espositivo ma assegnato senza asta. La situazione fu segnalata alla Corte dei Conti di Trento e ne seguì la condanna a rifondere alle casse comunali circa 171 mila euro ovvero 34 mila euro ciascuno. Ieri il Tribunale di Roma ha confermato di fatto la sentenza di primo grado riducendo però del 30 per cento la somma dovuta dei cinque ex amministratori comunali che hanno lasciato tutti l'attività amministrativa compreso l'ex sindaco Luca Civettini che l'altra sera ha formalizzato le proprie dimissioni da consigliere comunale.